Bravo, 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 bravo. Saluto questa bellissima piazza a nome di Fratelli d'Italia. Vedo davanti a me un popolo fiero di gente che non si è piegata e ha ancora voglia di far sentire la sua voce e che credevano di averci ridotti tutti al silenzio, di aver spaventato la metà degli italiani e di aver comprato l'altra metà. Ma la verità è che in Italia c'è ancora. Chi se ne frega delle minacce di Bruxelles? E' un figlio segreto di Pannamarchi, Matteo Rezzi. C'è chi ha deciso di reagire. Abbiamo dato vita a un fronte comune contro le politiche di questo governo. E voglio ringraziare davvero Matteo Salvini per aver consentito che questa manifestazione oggi fosse partecipata anche al di fuori dei confini della Lega, esattamente come da Romana. Non posso che essere felice del fatto che questa riscossa parta da Roma, nel momento nel quale la città eterna affronta forse uno dei suoi periodi storici peggiori. Grazie a Matteo Sivungo e a Nazio Marino, che tra le catastrofi della storia millenaria della città verrà posizionato appena dopo il sacco dei Lanzigerecchi e l'incendio di Nerone. E noi non vogliamo mettere Roma ridotta così. Noi stiamo dando vita al fronte. Marino! 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 Non c'è la nostra libertà e la nostra sopravvivenza. Pensavano di averci colonizzato. Ci hanno attaccato nel 2011 con la speculazione finanziaria per rimuovere l'ultimo governo scelto dagli italiani e sostituirlo con un governo fantoccio che facesse gli interrenzi delle oligarchie europee. Non abbiamo neanche scomodato la troica. Noi la troica ce la siamo fatta a casa. Erano molti, l'interrenzi. La troica è stata. E i risultati li conosciamo. La disoccupazione è lievitata. Il debito pubblico è lievitato. Il prodotto interno nord è crollato. L'Italia è al baratro. Ma Renzi se ne frega. Perché l'unica cosa che interessa a lui è compiacere e ripagare quei poteri che lo hanno piazzato a Palazzo Chigi senza che fosse votato da nessuno. Non le conosce le priorità degli italiani. Diciamole quali sono. Primo. Basta tasse. Basta tasse. Ci stanno ammazzando. E guardate che per la sinistra le tasse sono bellissime. Ma ci sarà un limite anche per loro. E poi sono belle quando le pagano gli altri. Perché guardate Gino Paoli. Invece a vedere da Cic che da presidente della SIAE tassa i giovani artisti ma poi i soldi che lui prende in nero alla festa dell'unità quelli che portano in vissera per non pagare solo. E non ci venite a dire che avete...